Prima hai detto una cosa interessante, quando si sta in una giuria uno deve giudicare il lavoro degli altri ed è veramente, veramente difficile. Credo sia piuttosto difficile magari essere giudicati quando uno fa un probino. Credo che uno si attrezza per il no nel corso della sua vita di lavoro. Oppure ogni volta il no è una piccola ferita. Beh, il no sono piccole ferite, certo, come no. Ma nella vita di un attore credo alla fine che ci siano più no che sì. Nel senso che il tuo lavoro, tutte le cose che hai fatto sono forse un terzo delle cose che non hai fatto. Si è sempre giudicati, soprattutto diciamo i primi anni della propria carriera in cui si fanno più provini che da una parte non bello perché a me non piacciono i provini come andare a scuola, fare gli esami, tutte quelle cose lì a me non piace, però li ho fatti, soprattutto in America ma anche in Italia li ho fatti. Adesso è un tanto tempo, non faccio forse un provino da dieci anni, quindici anni, non lo so. Un po' mi manca anche però. Adesso non li faccio più. Ma perché è come se da una certa età in poi o dopo si prenda per scontato che tu sei bravo o che porterai il lavoro e che quindi ti offrono tutto quello che pensano che tu possa fare. Però mai quello che tu potresti... Cioè, fare un provino per quanto sei... puoi anche sorprendere le persone che ti stanno davanti. È brutto e ti metti in difficoltà. È brutto nel senso come sensazione, quello che dicevi tu. Però, se quel giorno ti riesce, beh, puoi anche fare altro da quello che gli altri si aspettano. Invece a un certo punto della propria carriera ti offrono le parti. Ecco. E se tu dici, ma fate per una cosa, fate... Ma no, ma loro sanno benissimo chi sei. Sanno benissimo che cosa puoi fare. Io questo non lo... Non sono completamente d'accordo. Io penso che in vari momenti della vita gli attori diventano altro. Non sono sempre se stessi migliorano, peggiorano, diventano più vividi, più opachi, a volte diventi mediocre, a volte... Cioè, avere una persona di talento non è sempre la stessa. E quindi ci dovrebbe essere quel dubbio sempre, no? Ecco. In questo senso i provini sono belli. Ci sono anche delle verifiche, se non capisco male. Sì. Delle verifiche di... A che punto sei rispetto a quel progetto e a quel volo? Sì, sono anche un lavoro con il regista, che è il primo vero contatto con il regista per capire che cosa vuole. Certo, quando sei giovane... È più... È più... Insomma, fa più paura. Poi ci sono attori che fanno bellissimi provini, attori che fanno provini... Per esempio, Jasmine Trinca, che è la protagonista di Miele, del mio film, che è stata proprio la mia musa e che volevo assolutamente che facesse il film, ha fatto tutti i provini mediocri. Non è mai stata veramente brava nei provini. Eppure l'ho presa lo stesso, perché si capiva che in quella cosa di non riuscire a fare, io vedevo già quello che poi lei invece è riuscita a fare, ed è meravigliosa, secondo me, nel mio film. Invece c'erano attrici più pronte, più brave, più tecniche, più precise, che nonostante avessero fatto dei provini più belli di lei, non sono poi... che non hanno fatto più il film. Lei, come sai bene, moltissimi tuoi colleghi registi e registe dicono che poi nella scelta degli attori, nella giusta scelta degli attori, non ha fatto quasi metà del film. È un'esagerazione della categoria o...? No. No, non solo... Ci sono anche proprio registi che non fanno, gli attori che lo dicono. Sì, sì. La più della metà sta nella scelta, ma per ovvi motivi non... È evidente. Poi, è chiaro che un bravo attore non ti salva il tuo brutto film. Cioè, se tu non hai un'idea di come puoi fare quella cosa, che se non sei ispirato, se non hai un... un... come dire, un sentimento che ti porta... Un attore può fare anche le capovolche, fare qualsiasi cosa, ma un attore non ti salva un film. Al massimo diranno bravo quell'attore, però... un film così e così, come mi è successo anche... anche quello ti suggerisce, ma tu eri veramente bravo in quel film, no? Un film meno bravo. Però è vero che scegliere il tuo attore bene è importantissimo, importantissimo. Sono coautori del film, nel bene e nel male. Gli attori sono coautori del film. Cioè, Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea sono coautori di Euforia. Perché lo sono, appunto, perché mi hanno dato delle cose inaspettate, che non erano né scritte, né pensate, che solo guardandoli, vedendoli fare, ho... poi hanno fatto pure delle cose che ho subito nascosto. Hai tagliato. Subito, certo.